Cosa ha inciso su questo risultato? Forse l'unica disattenzione durante tutta la gara che abbiamo avuto, ci hanno puniti, poi loro sapevamo che sono una squadra che si chiude molto bene, che ti lascia pochissimi spazi tra le linee, quindi abbiamo fatto molto possesso palla per cercare di entrare tra le linee. L'abbiamo fatto secondo me anche bene perché abbiamo curato due barra tre palle gol nitide, ci sono stati secondo me anche degli episodi in area di rigore che potevano essere, ci poteva essere il calcio di rigore, però diciamo che così non è stato, abbiamo un po' da recriminare per questa partita secondo me, però fa parte del gioco, è importante che abbiamo fatto la prestazione che è quello che ci chiede il mister e pensiamo già alla prossima. Avete dato moltissimo livello di impegno? Sì, penso che questa squadra come nell'ultimo periodo è quello che non fa mai mancare e quindi penso per questo motivo sia una partita positiva, una prestazione positiva. Poi il risultato è quello che ci lascia la mare in bocca e ci fa andare a casa un po' veramente delusi, però fa parte del gioco come ho detto prima, l'analizzeremo domani e poi già con la testa a Cagliari perché vogliamo andare a fare risultato positivo anche a Cagliari. Rispetto a qualche mese fa avete dimostrato di avere un'ottima condizione atletica in queste ultime partite, non a caso prima vi dicevo che avete dato moltissimo livello atletico. Questa pausa imminente potrà fare del bene alla Cagliari che si può riposare un po' o potrebbe condizionare? Io penso che il campionato di Serie B è molto duro, intenso dove ci sono tantissime partite anche ravvicinate dove spesso una settimana ci sono tre partite come adesso in questo periodo. Quindi penso che la sosta accada a pennello, infatti vogliamo finire bene questo girone d'andata e poi goderci un po' le vacanze per ricaricare le batterie per il girone di ritorno.